Potrebbero bussare alla vostra porta nel silenzio della notte, oppure avvicinarsi alla vostra auto mentre è in sosta. Nessuno sa cosa succede effettivamente quando li fai entrare in casa tua. Nessuno sa qual è il loro scopo finale. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi siamo qua in queste circostanze un po' lugubri, un po' ansiogene, un po' hashtag ansietta. Siamo qua in casa mia per parlare di leggende metropolitane. È una serie di video che ho iniziato negli ultimi mesi e se non avete visto i primi due video dove abbiamo parlato dello Slenderman e dove abbiamo parlato anche degli uomini ombra, basta che cliccate qua o qua. Destra e sinistra io non ero a mia minima idea, se qualcuno ve lo fa sapere lo ringrazio veramente con tutto il cuore. Oggi andremo a parlare di un argomento che mi ha veramente tanto incuriosito e forse alcuni di voi ne hanno già sentito parlare. Oggi infatti parleremo dei bambini dagli occhi neri. I bambini dagli occhi neri sono una leggenda metropolitana che si è sviluppata nel corso degli ultimi 20 anni. Sarebbero bambini che hanno un'età compresa tra i 6 e i 16 anni, dalla pelle molto bianca, vestiti in maniera molto semplice, di solito con una giacca e con un cappuccio. E la cosa più particolare che hanno sono i loro occhi. Sono completamente neri, chiedono le lemosina e si presentano alle porte delle case delle persone. Potrebbero bussare alla vostra porta nel silenzio della notte, oppure avvicinarsi alla vostra auto mentre è in sosta. La loro tecnica è quella di avvicinarsi alle loro vittime e chiedere aiuto, chiedere di poter entrare in casa, chiedere di poter utilizzare il telefono e chiedere di poter avere accesso alla vostra vita. Il loro obiettivo è quello di ricevere un invito ad entrare. Per qualche strana ragione non hanno la possibilità di entrare in casa vostra o nelle vostre proprietà senza che voi ne diate l'effettivo consenso. Chi ci ha avuto a che fare descrive una sensazione, la sensazione di perdere il controllo della propria volontà. I bambini dagli occhi neri ti fanno fare cose che non vorresti, principalmente aprirgli la porta. Mentre poco a poco apri la porta ai bambini, senza che tu lo voglia veramente, loro cominciano ad abbassare il loro cappuccio e dimostrano gli occhi. E a quel punto sei completamente fregato. Nessuno sa cosa succede effettivamente quando li fai entrare in casa tua. Nessuno sa qual è il loro scopo finale. Perché tutte quante le storie che noi abbiamo e siamo riusciti a raccogliere sono storie di persone che si sono riusciti a salvare dai bambini dagli occhi neri. Mi mette veramente tanta ansietta. Perché non c'è la storia di nessuno che ha fatto entrare questi bambini? Cosa fanno questi bambini? Cosa fanno? No raga effettivamente ma se qualcuno lo sa me lo faccia sapere nei commenti perché io non ho trovato risultati. Che cacchio fanno questi bambini? Ti puliscono casa? Ti vengono a cucinare? Ti ammazzano? Non lo so. Ti fanno anche te gli occhietti neri? Non lo so. Non si sa. Comunque ho fatto stacca a questi bambini. Hanno lo scopo di entrare in casa tua. Ma la cosa particolare è che tutti quelli che descrivono questi bambini dagli occhi neri li descrivono come bambini molto insistenti. Cioè all'inizio chiedono di entrare. Dopodiché dicono Tu mi devi fare entrare. Tu mi devi fare entrare e farmi usare il tuo telefono perché io ne ho bisogno. Da dove è che nasce questa leggenda? Qual è la prima testimonianza di questa leggenda? Preparatevi. Il vostro Gianmarco gli è partito la ricerca. Gli è partita tutta quanta la ricerchina. Le origini della leggenda risalgono al 1998 quando il giornalista Bethel scrisse di aver incontrato i bambini dagli occhi neri in Texas e riferì anche di aver avuto altri avvistamenti segnalati a Portland in Oregon. Successivamente è il Daily Mail nel 2014 a fare un articolo sensazionalistico dove raccoglie tutte quante le testimonianze di questi bambini dagli occhi neri. Gli articoli pubblicati dal Daily Mail diventano virali e le storie raccontate mettono veramente i brividi. Io comunque vi metto tutte quante le informazioni e i link e le mie fonti in infobox. Però preparatevi perché vi racconterò alcune di queste storie e vi mostrerò alcuni dei video che a quanto pare mostrerebbero i bambini dagli occhi neri. La prima testimonianza di incontro con bambini dagli occhi neri è appunto del giornalista Bethel che scrisse in questo lunghissimo articolo anche le testimonianze di altri suoi amici. Comunque adesso vi faccio un riassuntino che ho trovato online della sua prima esperienza. Stavo guidando nei pressi del teatro verso il centro e mi sono fermato in un parcheggio libero. Stavo usando la luce di un insegna per compilare un assegno quando, con mia grande sorpresa, ho sentito bussare al finestrino del conducente. Ho guardato fuori e ho visto due bambini che mi guardavano dalla strada. Entrambi erano maschi e la mia impressione iniziale fu che avessero tra i 10 e i 14 anni. Abbassai appena il finestrino e dissi Sì? Il portavoce sorrise nuovamente più marcamente questa volta i suoi denti erano bianchissimi Ehi signore, come va? Abbiamo un problema La sua proprietà di linguaggio era incredibile e non mostrava alcun segno di paura Parlava come se il mio aiuto fosse un atto dovuto Dai signore! Disse ancora una volta con una voce soffice come seta Guardi, vogliamo solo tornare a casa e siamo solo due ragazzini Questa volta mi spaventò E non poco Qualcosa nel suo tono e nella sua pronuncia mi faceva stare sul chi va là Dai signore, ci faccia salire Non possiamo entrare se lei non ce la permette Lo sa Fu allora che per la prima volta notai i loro occhi Neri come il carbone Senza pupille Senza iride Solo due vuote sfere che riflettevano le luci bianche e rosse dell'insegna A questo punto sapevo che la mia espressione mi stava tradendo Non possiamo entrare se non ce lo dice lei Ci faccia entrare Inserì la retro e partì a razzo Intravidi con la coda dell'occhio i ragazzi e mi girai Erano spariti Ora voi vi starete dicendo Queste qua sono solamente delle creepypasta No raga Il problema è che dopo questa testimonianza Sono susseguite tutte quante storie e testimonianze online Persone che raccontavano i loro incontri con strani bambini dagli occhi neri Persone che raccontavano le loro esperienze avute con bambini Che suonavano il campanello della porta e pretenevano di entrare in casa Cosa più sconvolgente Video di personaggi Che sembrano ricordare moltissimo questi bambini dagli occhi neri Il primo video che vi voglio mostrare È un video registrato con un drone in una foresta In questa scena è possibile vedere dall'alto l'inizio del bosco In una zona ben precisa sembra comparire all'improvviso una figura Che ricorda moltissimo questi bambini dagli occhi neri Ma non finisce qui perché ci sarebbe anche quest'altro video Che è stato registrato durante una diretta di un telegiornale Nello sfondo è possibile vedere comparire all'improvviso una figura molto inquietante E in tanti hanno riconosciuto in quella figura i bambini dagli occhi neri Guardando questi video qua a me viene un'angoscia incredibile Provate a immaginare di guardare il telegiornale Voi siete gli scialli già avete un po' d'ansietta Perché questi qua si sono ammazzati con una motocicletta E più vi vedete sta figura comparire così all'improvviso nell'angolino Ma anche se non fosse stato il bambino dagli occhi neri Mi avrebbe messo angoscia C'è chi dice addirittura che questi sarebbero alieni Fantasmi Demoni Ma io spero di non incontrarne mai in tutta quanta la mia vita Ma per carità di Dio ma state a me la casa vostra Io adesso ho l'ansia di rispondere al campanello Ciao ci fa entrare Siamo i bambini dagli occhi neri Ma vale via il ciappone col cacchio Comunque io vi voglio anche raccontare una delle storie Che sono riuscito a raccogliere online Che mi ha veramente sconvolto E penso che sia una delle storie più sconvolgenti Di questi bambini dagli occhi neri Vide un ragazzo fare avanti e indietro Lungo il marciapiede dove avevo parcheggiato l'auto Il ragazzo si avvicinò al mio finestrino e mi fissava Credo per far sì che potessi vedere i suoi occhi Mi fecero morire di paura Pupille nere come la notte Il ragazzo mi sussurra all'improvviso Devi farmi entrare E fu allora che chiusi a chiave la macchina E mi accucciai tra i sedili Dopo cinque minuti se ne andò Quando mia madre ritornò in macchina Mi disse di un ragazzino con gli occhi neri Che era entrato dal parrucchiere dove si trovava Il ragazzino aveva insistito che lei gli desse le chiavi della macchina Voleva per forza entrare Ho un po' i brevi di raga Comunque tantissimi ricercatori si sono interessati A questa storia dei bambini dagli occhi neri Perché c'è tutta questa risonanza mediatica intorno a questi bambini dagli occhi neri Cioè c'è qualcosa di effettivamente vero Sono degli scherzi Sono dei prank Sono spiegavoli scientificamente queste cose Alcune persone hanno cominciato a dire Che in realtà sono solamente dei bambini Che indossano delle lenti a contatto Chiamate sclera Che coprono completamente tutta quanta la pupilla E potrebbe anche essere vero Più che altro non capisco qual è il loro obiettivo Ok tu ti metti sta roba qua Ste sclere Ste lenti a contatto Entri in casa della gente Loro ti fanno entrare E poi cosa fai? Boo Così e gli fai un spaventino Poi scappi via e ridi Altri hanno detto Sono dei bambini Affetti da midriasi Che è una condizione Non patologica credo Cioè non dovrebbe essere patologica Comunque è quando Le tue pupille si dilatano tantissimo Non vorrei dire una serie di cavolate Ma sto andando a memoria Questa roba qua La midriasi So che te la puoi indurre Utilizzando la bella donna Che è un'erba Resta sempre la stessa storia Cioè ma sti bambini Quando entrano in casa Cosa fanno? Ah Tipo Scooby Doo Ma cosa fanno? Qualcuno mi dica Se ha mai avuto esperienze Con questi bambini dagli occhi neri Li avete mai visti? Avete mai sentito parlare di questa storia? Vi ha messo un po' di ansietta? A me sì Comunque ragazzi Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto E cosa ne pensate di questa storia Dei bambini dagli occhi neri Se questo video vi è piaciuto Mettete un pollice in su Così so che ve ne devo fare altri Se conoscete altre Leggende metropolitane Fatemele sapere nei commenti Perché sono sempre Stra mega Iper curioso di tutto ciò Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al mio canale Esce un nuovo video Ogni martedì alle 15 Ogni sabato alle 10.30 Ogni tanto il giovedì Però questo giorno lo sa mai nessuno Magari lo sanno i bambini dagli occhi neri Però spero che non vengano mai a dirmelo Io vi mando Un bacione sgrande grande E al mio prossimo video Ciao Ciao